E' da dire che essendo bene vincolato, prima di fare qualunque tipo di operazione si richiedono dei progetti, delle approvazioni e devo dire che in questo tempo abbiamo lavorato per avere tutti i progetti approvati. Il mio predecessore Don Pasquale già aveva avviato anche una procedura per avere un finanziamento perché comunque costa mantenere questi beni, questi immobili. Quindi siamo riusciti ad intercettare di nuovo questo finanziamento se tutto procede bene ma già dalla settimana prossima era già in programma di avviare i lavori. Veramente sarebbero dovuti iniziare a febbraio, a volte la burocrazia richiede dei tempi e che non sempre è facile rispettare. Quindi siamo riusciti a partire, la settimana prossima dovrebbero già vedere le impascature sulla facciata del soccorso. E' un lavoro costosissimo anche perché si tratta di togliere tutte le intonacature e rifare tutti gli abbozzi e l'intonaco. Quindi portare la pietra viva, trattarla con materiali che sono costosi perché devono essere idonei per stare in quel contesto di salsedine, di vento e acqua. Quanto si ha bisogno? Le parlava addirittura della richiesta di un finanziamento. Noi abbiamo inoltrato alla CEI un finanziamento che ci arriverebbe al 75% e già c'è stato quasi approvato. Mancano delle documentazioni. Essendo una chiesa molto antica non è facile reperire dei documenti. Emanuele, di quanto stiamo parlando? Ma in realtà noi puntiamo a cavarcela con 60-70 mila euro perché bisogna rifare tutti gli intonaci e le coperture. Quindi stiamo parlando di un impegno notevole di cui la parrocchia si dovrà almeno impegnare al 20-25% che non è poco.